oggi vi mostrerò tre modi per rendere più interessante il caffè freddo per il caffè alla vaniglia mettere del ghiaccio in un bicchiere aggiungere 150 ml di latte vostra scelta un cucchiaino da caffè di essenza di vaniglia e una tazzina di espresso per preparare il macchia caffè vi serviranno 200 ml di latte vostra scelta e un cucchiaino di macchia in polvere mescolate bene il tutto per evitare grumi versare in un bicchiere con del ghiaccio aggiungere infine una tazza di espresso per addolcire potete utilizzare un cucchiaino di latte condensato al posto dello zucchero infine per preparare il caffè al cacao vi serviranno fra i 150 e 200 ml di latte e un cucchiaino di cacao in polvere mescolate bene finché il cacao non si sarà di solito aggiungere ghiaccio e una tazza di caffè a vostra scelta io ho usato quello filtrato spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima торi a presto anche se potenti potenti potenti